Now, say my name Nel senso, per me, nel senso che io ne so Quando sei nato e lui dirà la mia data di nascita E quanto mi conosci Quanto mi conosci Io si chiederà appunto Vabbè Io si chiederà quanto mi conosci e servirà a testare Quanto ci conosciamo un lato Esatto Ci conosciamo da parecchio tempo Sicuramente alcune cose non le sappiamo Perché non ci abbiamo magari mai fatto caso Non le abbiamo mai memorizzate E quindi questo qui servirà a capire Se ci conosciamo apparentemente o realmente Eh? Quindi è un po' un esperimento sociale Sì, tra noi due Allora, possiamo partire con la prima cosa Domanda, diciamo Già Ovvero, quando sei nato La data di nascita Che parti, ho tempo Vai, fai tempo Allora, la sua data di nascita è 14 gennaio 1994 BAM Ed è giusta, sì, è vero Sono del 14 gennaio Mentre la sua è 29 marzo del 94 E fino a qui ci siamo Questa, ma posto I compleanni si siamo detti per 10 anni Quindi Poi Stiamo bene Qual è il mio colore preferito? Ecco Allora, qua c'è Cioè, io puntare tipo sul blu Perché c'è il solito colore preferito maschile Quindi anche il tuo Sarà giusto No, rosso Rosso per poi vorrei E' rosso perché è da Roma Giusto E' rosso Da Roma E' ci ho pensato dopo Che pezzo di merda E' vabbè E' rosso E' rosso E' si è rosso Vabbè perché te l'avevamo pure detto Vabbè allora E' che io non ho idea De quello che è tuo Io mi butto proprio Io mi butto proprio Sto capito che metto blu Eh Dico blu Eh no E' verde No E' rosso No Giallo No E' facile Classico proprio Nero Brava Ma come fai ad essere il nero come colore preferito Ma lo so Che trischezza Ma capro No vabbè Vabbè c'è il nero C'è il nero Il nero è il nero Poi Vabbè questa è semplice Dai Questa perché ci vogliamo bene Guardate il cuore A lui di Falazio Sicuro Convinto Te ne ho appunto eh No vabbè dai Roma Inter Quindi siamo Quanto siamo Diciamo due a due O tre a due per te Perché l'osso hai detto dopo Fammo due e mezzo A due A due dai Ecco Ma questa leggiamo Allora Questa penso che è la domanda Più usata in tutti i tempi Ed è Charmander, Bulbasaur o Squirtle? Quiltle Allora se io non mi sbaglio Il tuo preferito è Bulbasaur E Squirtle No E' Charmander Ma che nome Ma del sempre Charmander E io mi ricordavo Il tuo è quell'alternativo No E dici Bulbasaur Eh no Mi dispiace E il posto qual è? Charmander Cioè solo Charmander Il mio qual è? Charmander Vabbè non vale Ok poi solo Charmander può essere Charmander Dove di capire Squirtle 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 Quanto era bello Poi Charry salto Vabbè stiamo quattro a due Bene Siamo tre e mezzo a due Vabbè quattro a due Mentre Allora Qui c'è un discorso dietro Ovvero il mio code preferito Allora Io ti posso dire anche la classifica Di i tuoi code preferiti Il tuo code preferito è code 4 Il secondo code preferito è mv2 Mamia Il terzo code preferito non penso che tu lo abbia Perché ti fanno schifo un po' Per tirare Sì bravo Quindi sono proprio una bestia Ma Questo vale tu punti Allora Mentre per me Allora Penso che per lui Nel senso da Il suo code preferito Se non erro E ho paura di sbagliare Occhio perché qua c'è un dualismo molto Eh Stanno lì lì È tra Black Cups Il primo E Modern Warfare 2 Quindi quali mettiti per il primo Se è ovvio che sta giocando sti due Però quali è il primo Mv2 Che cazzo Mv2 perché sta un po' con una spanna Pure questa hai preso Comunque sì Mv2 e Black Cups 1 Esattamente E poi non so quale altro Cioè Vabbè Black Cups 2 penso Pure ti è piaciuto Non tanto Vabbè sono sempre i tuoi code preferiti Allora Il piatto preferito Questo comincio io Vai Non lo azzecherai mai No No dai Se non è questo Mette sparo È il kebab No Dai ci uno Non è poi di te no Ti giuro no Guarda la pasta carbonara No La pasta però con qualcosa Non è propriamente padre Lasagna No Gnocchi No Tortellini Ravioli Bravo Ricorda i spinaci Sì però come? All'uovo Che vuol dire all'uovo? Ma sa all'uovo cioè No dico come cioè Non è che i ravioli così buono Burro Burro No Parmigiano No Con l'origano C'è C'è Ravioli e quattro formaggi Sa troppo buoni Vabbè però non vale Perché io sono più aperto Cioè lui sa più cose Che lui mi parla mai Vabbè Il piatto preferito c'è la pizza Poi c'è sta il mac No No Hai sbagliato No la prima è la pizza Cioè no Hai sbagliato Non è vero E sushi Non distro... No Sì Tu non ti mangeresti sushi tutti i giorni Porca troia Non è vero Porca troia Il piatto preferito la pizza Poi c'è il sushi e c'è il mac Quanto stiamo? Vabbè sto sempre in malta giugno Quanto è finita? Eh... Quanto è finita? Stanno 0 a 0 45 Dai quanto stiamo? Stiamo 5 a 4 Molto Sempre così Siamo 6 a 3 Stiamo 6 a 3 Dai Allora Birra preferita Questa è facile Sono deciso Questa è facile Tra quella verde E quella verde E la Budweiser Che ha detta prima Mentre la tua è la Guinness E che cazzo? Vabbè non è possibile Dai su vabbè Basta sono squalificato 7 a 4 Dai Qualcuno Vai Perché lo dico sempre Esatto Eppure io dico sempre da Bud Rapper preferito Vabbè questo è facile Questo è proprio io Guarda il mio Berman Eh Il tuo Vai Salmo No ma come Salmo? Jamie Tights Vabbè no però Aspetta perché Perché Mi ha ingannato Perché lui prima mi ha detto che era Salmo Ma non è vero Non l'ho mai detto Ma massimo Non l'ho mai detto Non ho mai detto che Rapper preferito è Salmo Jamie Tights Vabbè comunque Ho detto Jamie Tights Dai Jamie Tights Dai Vabbè questo vale come rosso o blu Questa ho parlato Culo o tetti Lui tetti Te pure No dai Non mi voglio dire no A fonte delle cose che sono successe nel tempo Quindi quello Basta Perché Sostanza Mole o bionde? Per me? Mole Dai Dai Qua andavo proprio a culo Questa è una bella plane Eh Questa è tutto Sì Nike o Adidas? Io di te lo so Io di te pure E non è la stessa mia vero? E' il tuo Non lo so E' il suo E' il mio A seconda di quello mio E' il tuo non è la stessa mio E' il tuo è Adidas No E' Nike Nike Adidas Na Nike Eh Nike Eppure il suo è Nike No Si è Adidas Non è vero Non è vero Non è vero Le prende tu Gioco preferito in assoluto Crash Bandico Pagno No L'ho sempre detto nei video L'ho sempre detto Ah GTA Eh 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 San Andreas Sì però non vale Lo vedi Vabbè perché non me conosce proprio Però le so le cose Eh sì Le sa dopo Però so come conosco bene Tua mano Quello è giusto Anche io Eh mi madre La conosco bene per forza Io le prendo tutte Quante erano 12? 12 su 12 ragazzi Mamma mia Sono troppo forte Io ma Tipo 7 Perché se qualcosa del genere Vabbè 7 sono Cioè più della metà comunque Diciamo che vale Ah ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto C'è stata un'antica carina comunque farlo Perché almeno anche voi in questo modo Sapete più cose Anche se ho fatto di verità Non fa niente cercavo di dimenticarlo E se volete video del genere comunque Che non so che video del genere ci possano essere Però speriamo che vi piaccia questa tipologia di video Che stiamo prendendo Dai Grazie è tutto È meglio che lui parla più Dai Grazie è tutto Bella Bella